Rieccoci e allora con l'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione è il momento di advisor update perché con Eugenio Sartorelli facciamo sempre un po' un volo planare su più fronti e con vari approfondimenti sempre ovviamente interessanti. E allora intanto al nostro ospite Doyle ben trovato Eugenio Rieccoci in nostra compagnia grazie come sempre buongiorno. Ciao Giacomo grazie a tutti buona giornata. Anche oggi on the road poi magari sono di... Si si sente un po' di sottofondo ma io ci sono dovunque sia io non ho problemi a fare una volta mi ricordo lo feci anche dalla vetta del Cimone una diretta il Cimone che è la vetta più alta dell'Appennino Tosco Emiliano. Bellissimo e ciò nonostante il segnale era stato pulito senza problemi. Si perché c'è proprio un ripetitore proprio lì sopra sulla vetta del Cimone dell'Aeronautica Militare lì c'è un conservatorio molto importante dell'Aeronautica Militare sul Cimone per chi lo sa e consiglio a tutti chi non ha visto quelle zone lì di andare perché sono meravigliose. L'Appennino Tosco Emiliano è meraviglioso è bello tutto l'Appennino ma io sono un Alpigia sono delle più vicine alle Alpi però io adoro l'Appennino Tosco Emiliano. Io me lo segno perché poi quei posti lì mi... Bene insomma peraltro dall'ambiente sembra quasi che tu ti trovi tipo su un aereo o su un elicottero ma in realtà... Sì è l'autostrada. Esatto esatto molto più semplicemente. Senti allora oggi tra le notizie più importanti occhio peraltro al mercato che all'improvviso svolta in territorio positivo. L'unico è il Fuzzimiba adesso che resiste sopra la parità più 0,11 gli altri però a partire da Madrid meno 0,5, Parigi meno 0,25, Dax meno 0,3 per cento. Per carità sono perdite comunque ridotte che non vanno a influenzare il grafico giornaliero però insomma è una notizia dell'ultimo secondo. Anche Londra sotto lo zero e anche Zurigo meno 0,32, 11.073 punti. Ma va bene insomma poi su questo magari ci torniamo. Tra le notizie più importanti di oggi ci sono ovviamente le trimestrali. Ci sono le trimestrali, caro Eugenio, Unicredit utile e sorprendente, titolano i siti specializzati, di 887 milioni. Orsela ha anche detto un piano trasformativo, ha annunciato un piano trasformativo a lungo termine, battute le attese degli analisti su ricavi e profitto netto. Commissioni record, apporto, costi ricavi sceso del 51,5 per cento, il più basso da oltre dieci anni. Cuscinetto di liquidità, MDA Buffer a 689 punti base ai massimi storici, confermati gli 1,1 miliardi fra cedole e buyback, titolo che supera i 5 punti percentuali di acquisto. Vediamo se sono ancora tali dopo questa diciamo piccola inversione. Sì, siamo ancora più 4,18%. Insomma, si festeggia sostanzialmente nelle banche, di intesa abbiamo parlato poco fa. Poi c'è da dire che, insomma, supera le attese e supera l'anno precedente, ma mi pare anche normale, no? Dato che nel 2020, il primo trimestre, non so, cioè forse solo Amazon e quel comparto lì, ha avuto grandi guadagni e grandi trimestrali. Ma rispetto al primo trimestre in cui sostanzialmente si è, non dico paradizzato tutto, ma c'è stato il blocco forzato causa Covid, è anche normale che i dati siano superiori alle attese e a quelli registrati in precedenza? Guarda, io devo andarmelo a vedere bene, però credo che la trimestrale sarà buona. Ma io sto leggendo, lo leggo, il conto economico della chiusura del 2020, che mi dice, che mi dice, super unicredit, ve lo leggo, reddito al netto dei componenti straordinarie, meno 2.834 milioni. E questo però nel comunicato stampa non te lo mettono nelle prime due righe. Cioè la chiusura, probabilmente la trimestrale sarà buona, ma ha chiuso un 2020? Non è che l'ha chiuso molto bene, c'è un reddito netto meno 2.785, io non so cosa dire. Cioè basta una trimestrale per fare primavera? No, ma capisco, c'è tanta liquidità, quindi qualsiasi spediente è buono. Per esempio, scusate se ti menziono sempre Tesla, Tesla ha raddoppiato la venda delle auto in Burundi, che da 4 ne ha vendute 8 e salirà dal 10%. Ormai siamo a questo punto qua. Sì, 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 chiaro. C'è talmente tanta liquidità, che tanto la giustificazione la trovi sempre. La liquidità ormai va, devono trovare qualcosa. Quindi appena vendono che qualcosina ti va sulla testa e allora dico, comprate le compagnie aere a questo punto. Comprate le compagnie aere, che sono tecnicamente tutte fallite, e per lo tanto adesso con i vaccini si torneranno tutti a prendere l'aereo. E via comprare le compagnie aeree, che tutte faranno un aumento di capitale, perché sono fallite, le compagnie aeree sono tecnicamente fallite. E comprate. E quindi Udansa, Boeing, American Airlines. Io mi sono andato a prendere delle colle effettivamente su alcune compagnie aeree, perché tanto oltre agli aumenti di capitale verranno sussidiati dagli Stati. Al di là di questo Unicredit, mi guardo bene i bilanci e vi dico la prossima volta se veramente è giustificato questo entusiasmo. Per me forse è più giustificato il fatto che c'è un nuovo amministratore, un nuovo CEO e forse il piano industriale non dispiace di Unicredit. Forse quello, aggiungo con una certa malizia, e adesso vado a prendere anche il grafo Unicredit, così ce lo vediamo insieme, perché è simpatico, è anche bello fare un minimo di analisi tecnica, Unicredit ha fatto un gap di alzista, però non ha ancora rotto i massimi precedenti. Per me il livello chiave è neanche 9.4, 9.5. Non c'è bisogno che faccia i massimi quelli superiori a 9.6, no. Per me già se va sopra 9.5 è convincente. Se no, vediamo, oggi non è sufficiente. Non è sufficiente, è certamente un rialzo, bisognerà vedere anche la chiusura dei volumi. Quanti volumi ci saranno, che sicuramente saranno in crescita, molto importanti i volumi. Stavo dicendo con malizia, evidentemente sarà anche passata la notizia che probabilmente non dovrà assorbire Montepaschi. E questo potrebbe insomma in effetti dare... E questo è un bel colpo, perché non lavora nessuno Montepaschi. O come la chiamo io, mi prendo la responsabilità della battuta, ma lo dico, la battuta lo faccio, chiedo scusa ai dipendenti di Montepaschi, però io penso soprattutto a quei poveracci che avevano le azioni che gli erano fatte comprare, io la chiamo ormai da qualche anno Montepacchi, perché veramente è clamoroso, è clamoroso quel titolo, è clamoroso, clamoroso. Cioè dovrebbe essere un titolo che dovrebbe essere messo fuori dalla borsa, però vabbè. E adesso nessuno lo vuole, è perché sono solo debiti. E quindi probabilmente Unicredit è scongiurato, potrebbe anche essere prenoto il fatto che il nuovo CEO vuole ammogliarsi con qualcun altro, vedremo con chi. Unicredit che peraltro ricordiamo che insomma in passato, o in recente passato, aveva anche avuto la situazione della separazione rispetto a Unipol con poi le conseguenze che abbiamo visto. In realtà volevo aggiungere che tra gli altri trimestrali interessanti c'è anche Intesa, l'utile di 1,516 miliardi batte le attese del 50%, la dimessina ora i dividendi e anche in questo caso si parla di dati superiore all'attese, insomma assolutamente sorprendenti. Anche in questo caso Intesa guadagna lo 0,7%, quindi non è così entusiasta come reazione rispetto a Unicredit, comunque si ha superato anche una resistenza nel breve che poteva essere interessante, quantomeno un target come punto di riferimento per chi ha Intesa o chi magari voleva investire insomma su questo titolo. Vorrei giusto parlare del grafico d'intesa, perché a me piace il grafico d'intesa molto più di quello di Unicredit. Scusate peraltro Eugenio, io prima ho detto una fesseria, parlavo di Unipol, in realtà intendevo Finecco, Unicredit e Finecco, parlavo di quell'operazione, Unipol non c'entra niente, chiedo scusa a casa. Guardate il grafico, vedete che qui se rompesse aria, andiamo meglio 2,38, ma facciamo anche 2,40, attenzione alla rottura, non basta che ci sia sopra un minuto, deve confermarlo con la chiudere giornata, quindi per me sopra 2,40, con conferma di giornata, con volumi, meglio ancora se poi lo fa con la chiusura della settimana, ulteriore conferma, e questo mi confermerebbe che tutta questa zona che sto evidenziando, cioè sostanzialmente da metà marzo fino adesso, è una fase di accumulazione. E poi guardate Unicredit, scusate, intera San Paolo, e poi ha tanto spazio per tornare sui massimi pre-Covid, perché questo lo sappiamo tutti, è il miglior titolo italiano bancario, non ci sono dubbi, per storia, per gestione, per presenza, anche all'estero, per management, quindi potrebbe veramente poi, anche con l'aiuto sappiamo, del fatto che tutte le sofferenze vengono messe sotto un tappetino, nascoste almeno fino a fine anno, e questo per il sistema bancario è positivo, quindi potrebbe andare ad aggredire, non dico i massimi pre-Covid, ma vedete che c'è un gap ribassista, è lì che chiama coprimi, coprimi, per arrivare almeno a 2,5, quindi 2,5 potrebbe fare anche di più. Intera San Paolo, graficamente parlando, al di là dei bilanci, che poi ripeto andrebbero approfonditi, ma per la prossima volta vedo di fare uno studio sui bilanci e magari compararli, mi sembra, a me piace molto di più come grafico, è molto più convincente. Sì, più pulito, insomma, in effetti, è evidente e lo si vede. Ci sono alcune domande di amici da casa, peraltro su titoli, quantomeno asset che tu segui, vedi Coinbase ad esempio, prima però volevo chiederti una previsione, quantomeno che cosa ti aspetti dalla Bank of England, dato che alle 13 tocca a Mr. Bailey e anche in virtù del fatto che comunque nel Regno Unito la situazione è abbastanza diversa rispetto al vecchio continente, è più piccola rispetto agli Stati Uniti, insomma, non so se ti aspetti un, diciamo, atteggiamento più hawkish, cioè più tendente alla Bank of Canada, che per prima ha dato il via all'allentamento appunto del tapering, o se invece pensi che si rimarrà in qualche modo allineata alle indicazioni di Banca Centrale Europea e di Fed. Ecco, ricordo che quello che ha fatto la Bank of Canada è accaduto il 21 aprile, e non il 22 quando ci fu il ribasso, che ci fu una correzione, e gli fece il solletico a tutto il mercato. Stranamente! Perché? Perché stranamente? Perché è noto che la Banca Centrale Americana, non l'avevo già menzionato, manda prima avanti le truppe che sono o la Banca Centrale Australiana, o la Banca Centrale Canadese, qualche volta pure la Banca Centrale della Nuova Zelanda. Ora che la Gran Bretagna è diventato il 52esimo, non mi ricordo se è il 52esimo Stato degli Stati Uniti di fatto, perché quella è il futuro della UK, e quindi così grande vendetta dei coloni americani dopo la guerra di indipendenza, che il re diventa suo suddito, la regina in questo caso, non credo che ci sarà un seguito a questo della Bank of Canada, ma credo che la Banca d'Inghilterra ha anche le difficoltà finanziarie del suo Premier, se andate a vedere, è quasi un gossip, ma è anche divertente da andare a leggere, credo che non se lo possa permettere, perché ha ancora bisogno di una ampia espansione per la questione della Brexit. La questione della Brexit costa, costa, ha dei costi, e quindi credo che starà abbottonata. E quello della Bank of Canada, secondo me è stato proprio, e non a caso poi la Yellen, che non è il banchiere centrale, è l'ex banchiere centrale, la Yellen ha fatto quella dichiarazione, secondo me non in maniera casuale, queste persone non fanno mai dichiarazioni casuali, mai, sono troppo esperti, hanno un ufficio per la comunicazione. Ti volevo in effetti anche stuzzicare, scusa se ti interrompo, magari ti chiedo anche di togliere la condivisione, così torniamo a vederti, perché c'era ancora il grafico di intesa, ma ero tentato anche di chiederti, su quella dichiarazione di Janet Yellen, se è stata una gaffa, oppure invece, oppure no. Prego, prego, ti ho interrotto. Per me hanno fatto un pretest con la Bank of Canada, non è che la Bank of Canada ovviamente sta lì ad abbaiare, si si obbedisco, però la Bank of Canada era già orientata, e il Ministero dell'Economia americano, la Yellen, dice, vediamo come dice i mercati, i mercati sono l'etico, e allora adesso proviamo, non il banchiere centrale, che è lui che dovrebbe dire quelle cose, la Yellen, che non è il banchiere centrale, che dovrebbe essere indipendente, fa la dichiarazione, ma sì, prima o poi i tassi saliranno, che la potevo fare anch'io, è chiaro che entro dieci anni i tassi saliranno, che scoperta, lei non ha detto a breve, ha detto saliranno, se ci sarà una forza economica notevole, ma non ha detto né quando, né come, né perché, e non è il banchiere centrale, e se visto che il mercato si è un po' scomposto, ma veramente gli ha fatto anche lì, non dico il solletico, ha preso paura per 4-5 ore, ma una paura, se andiamo a vedere la volatilità, una paura che fa sorridere, basta, si vede che il mercato in questo momento, è come si dice, resiliente anche a queste notizie, cioè o il banchiere centrale a questo punto dice, guarda, tra 6 mesi, vado col tapering, se no in questo momento, sì ma sì, lo faremo il tapering, ma forse aumenteremo i tassi, non gli fa niente, e la Bank of England, secondo me, continuerà con la sua politica monetaria, non la muoverà di un millimetro assolutamente. Allora, proviamo a rispondere al nostro amico, che ci chiede del Coinbase, in particolare, si tratta di, vediamo un po', perché poi, ah Cesare, il nostro amico Cesare, insomma, cosa ne pensate di Coinbase? Domanda che giro ad Eugenio, dato che è un tema che segue con attenzione e compassione. Compassione, e sono anche un investito, ho comprato Coinbase, non a 350, ve lo dico, guarda, ho un prezzo medio di circa 330 dollari, per me Coinbase vale molto di più di questi livelli, se Tesla vale quella roba lì, se ha altri titoli americani, Apple e così via, per me, come direi, si parla sempre buy on deep, a me piace più dire buy on cheap, per me questo è un buon prezzo, lo ritengo io, lo dico da uno che sta perdendo, perché ho i valori medi intorno a 330, per me, sono andato a vedere i suoi bilanci e così via, per me, andando a vedere i multipli, di altre società, non exchange, ma società americane, di altri settori, applicando quei multipli, per me può valere almeno 700 dollari, quindi potrei sotto 250 dollari acquistarne ancora, ricordiamo che voi dovreste confrontare il grafico di questo, adesso non ce l'ho da confrontarlo, con la capitalizzazione del mercato delle criptovalute, perché su questo loro guadagnano, quanto più il mercato delle criptovalute capitalizza, ed è in crescita questa cosa qua, tanto più loro guadagnano in commissioni, perché loro guadagnano una percentuale in commissioni, o più altre varie cose che fanno, e quanto più la commissione, se è lo 0,10, e la criptovaluta vale, è lo 0,10 in termini di dollari, vale di più, se il valore delle criptovalute mediamente sale, quindi tenete sempre controllo di quel traffico, e quel grafico, e secondo me questo è un buon titolo, perché questo è l'exchange, a cui si stanno rivolgendo, e si rivolgeranno, i fondi che vogliono, i fondi, quindi i clienti istituzionali, che vogliono operare sulle criptovalute, e andranno da Coinbase, perché è quello più strutturato, per operare con gli istituzionali, quindi per me è un, come si dice, è il titolo più legato alle criptovalute, che è quotato sui mercati regolamentati, che io acquisterei, e terrei lì per i prossimi 10-20 anni, ma anche di più, come un fondo pensione, per me è questo titolo. Chiaro, intanto ci sono varie opinioni, da casa, la Yellen non avrà testato il terreno, per vedere la reazione, salvo ritranquillizzare subito tutti, si domanda Enrico, lo faceva anche quando era capo della Fed, che a ogni riunione menzionava l'aumento dei tassi, senza aumentarli, e poi aggiunge Coinbase, però dice, secondo me vale pure tanto, ma è poco scambiato, sto leggendo qualche opinione che arriva da casa. Sì, è vero, è vero, non ha grandi, è un po' la delusione, guardate qua, se si vede il grafico, proprio a livello di volumi, questi dovrebbero essere i pezzi, 5,06 milioni, ha scambiato solo i primi giorni, quella è un po' la delusione, ma, e qui è una mia ipotesi, lo dico senza aver fatto un'indagine, mi sembra quasi che su questo titolo, che io dissi, credo proprio, dissi in questa trasmissione, questo è una specie di cavallo di troia, della finanza decentralizzata, all'interno della finanza centralizzata, è una specie di cavallo di troia. Allora, visto che non sono stupidi, quella della finanza centralizzata, cioè JP Morgan e così via, gli stanno un po' facendo guerra, secondo me, cioè, cercando di, di non consigliarne l'acquisto, di non tradare su questo titolo, e di lasciarlo in mano solo ai trader. Credo che sarà solo questione di tempo, prima o poi arriveranno anche i grossi volumi su questo titolo. E secondo me questa fase di discesa è anche parzialmente legata ai dipendenti, che come dipendenti di Tiscali, c'erano i dipendenti di Tiscali, chi se lo ricorda, vi faccio questa cosa, nel 99, quando fu guardato Tiscali, ci furono dipendenti, che di colpo si trovavano con in mano, con le azioni che gli avevano dato come premio, stavano in mano, allora c'erano ancora le lire, centinaia di milioni di lire, qualcuno ha anche un miliardo di lire, e cosa fai? Cosa te li tieni? Hai una cosa che vale e vale niente, e di colpo la quotano, e vale una cosa enorme, e liquidano una parte di questo inatteso profitto, e qui tanti dipendenti di Coinbase, secondo me stanno un po' alleggerendo, stanno piano piano alleggerendo, perché hanno dei profitti mostruosi in mano, hanno centinaia di migliaia di dollari, che vogliono liquidare, finita questa fase qua, secondo me arriveranno grossi acquisti, almeno di un crollo del sistema, che è tutto valuto ovviamente. A che livello potrebbe essere un fondo per ripartenza? 250, che era il valore iniziale, il valore iniziale, quello di quotazione, secondo me 250 è un livello chiave, se rompe 250, ribasso e ci sta sotto, allora effettivamente è un po' abbandonato a se stesso questo titolo, e mi stupirebbe, se invece ritrova supporto, poi per me questo è un titolo che può veramente fare, cioè vi ricordo che non c'entra con questo, Facebook quando fu quotato, non mi ricordo in che anno, che lo segui molto da vicino, Facebook i primi mesi scese, scese i primi mesi, andate a vedervi il grafico dopo la quotazione. Facebook scese i primi mesi di quotazione dici? Sì. Giusto? Ok. Sì, me lo ricordo, ma uno dei motivi furono anche quelli, che c'erano i dipendenti che liquidavano le posizioni. Eh sì, eccolo qua, il grafico che parte dal 2012, almeno io ce l'ho dal 2012, effettivamente dal 2012 al 2013, perse un discreto terreno, insomma poi c'è ai tempi, perse, vediamo un po' se riesco anche a quantificare, sì sì, perse quasi il 50%, anzi, in un momento arrivo fino anche a meno 62%, poi c'è stato un rischio. Sì, ci furono anche motivazioni, adesso non mi ricordo che problemi ebbe anche legali, se non ricordo male, ma il primo ribasso, quello di primi mesi, dove tutti si aspettavano, ah farò un boom, come anch'io mi aspettavo su Coinbase, io pensavo che trovasse supporto a 300, poi ripartisse, e Facebook non trovò supporto, e continuò a scendere, poi uscivano anche delle notizie, appunto di questioni legali, non mi ricordo, e quindi scesi anche di più. Tu pensa, chi ebbe la forza di tenersi il titolo, o di comprare sulla discesa, ecco, si faccia i calcoli, non dico adesso, perché adesso è facile, anche nel 2019, quanto avrebbe avuto, avrebbe in mano un percentuale in più. Ecco, secondo me Coinbase potenzialmente, potrebbe fare graficamente quella roba lì. Allora, con i saluti di Roberto, che ti dice, bello il cimone, ma andate sul Monte Baldo, 2218 metri con panorama del Garda, in fronte a casa mia, esatto, lo vedo il corpo dal mio terrazzo, vedo il Monte Baldo. Perfetto, esatto, siamo quindi a casa Sartorelli, e con i complimenti di un amico, che non si firma, e che ci scrive, vedo per la prima volta, ti invitiamo a farlo di più, complimenti per l'esperto, molto bravo, ti saluto Eugenio, grazie come sempre per la disponibilità, insomma, buon viaggio, direzione? Direzione Monza. Direzione Monza, ok, ok, allora, buon viaggio, noi ci sentiamo presto, e alla prossima. buon viaggio, Autore dei sovrapposti